buonasera a tutti amici tecno viaggio vediamo un po come la situazione qui a caorle il mare del tempo si sta preparando veramente un bel temporale un po' di un po' di un po' di un po' di due c'è il cielo veramente nero un po' di un po' di due c'è anche una strana nuvola più chiara un po' di un po' delle Sì, sì, sì. Sì, sì. Il contrasto comunque che c'è tra il mare e il cielo è bellissimo perché si vede proprio la differenza di colore. Però l'aria sta facendo veramente più fresca. E ci vuole un giubbino. Sì. 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 Sì.